Tanta tanta guagna per tutti ragazzi qui è Bistard che vi parla e vi lascio 5 secondi di tempo per chiamare amici e parenti perché in questo gameplay vi farò vedere delle cose assurde, strepitose, sensazionali, quindi correte, spargete la voce e comunque iniziamo subito ragazzi, voi adesso vedrete questa immagine agli ultravioletti ragazzi ed è molto semplice perché dentro qui alla base di Forza Ancudo c'è scritto Take Control che in pratica vuol dire prendi il controllo quindi cosa ho fatto ragazzi? Sono stato penso un'ora dentro alla base militare, sono andato chiaramente dentro la torre di controllo perché prendi il controllo, secondo me voleva dire andare dentro la torre di controllo, ammazzare tutti e stare lì magari fino di notte come al solito ragazzi per vedere gli UFO, però non è successo niente appunto dentro alla torre però è successo veramente di tutto, strepitoso ragazzi, ho scoperto il segreto di Forza Ancudo quindi tenetevi ben saldi alla sedia ragazzi e state attenti a non urlare perché può succedere quindi iniziamo subito ragazzi perché vi faccio vedere, prima di farvi vedere il segreto, vi faccio vedere un bug assurdo come adesso starete per vedere ero con Trevor che ero appena sceso giù dalla torre di controllo ed ero dentro a questo corridoio, di solito ci si può passare in mezzo se guardate bene il mio personaggio ragazzi non riusciva a passare, vedete che continuava a camminare come se fosse stato bloccato quindi adesso mi vedete ritornare lì perché pensavo magari un piccolo bug del gioco invece no ragazzi non riuscivo a passare quindi a un certo punto mi sono deciso a prendere un'arma e incominciare a sparare ragazzi e guardate i proiettili come vanno, tipo seguono una forma di qualcosa perché guardate certi sono più avanti, certi sono più indietro quindi veramente assurdo questa cosa qui, mi hanno sparati veramente a centinaia di colpi e tipo una forma, vedete che è tipo una forma, vedete lì proprio un angolo retto c'è, una cosa assurda mai vista e avete visto ragazzi non è un taglio di una clip, è proprio il gioco, se guardate nel cassonetto ci sono i miei colpi cioè assurdo come cavolo fanno a starci due cassonetti dell'immondizia dentro nascosti invisibili cioè fuori di testa sono questi della Rockstar poi sono dentro questo edificio ragazzi, pensavo che magari lanciandomi in mezzo come vi ho già fatto vedere in un glitch a un punto che entravi dentro a questo edificio e si apriva il paracadute qui non è successo niente ragazzi, ero completamente bloccato dentro e guardate adesso per uscire cos'è successo, è un'altra cosa assurda veramente, una cosa pazzesca ero qui che continuavo a correre e saltare un po' in giro perché cercavo un attimo di salire su questi e in pratica ho fatto il salto come avete appena visto e mi sono schiantato contro il cardine della porta cioè è pazzesco, comunque adesso ragazzi passiamo alla clip importante del gioco ed è questa qui, ero dentro la base militare chiaramente e in mezzo ai due hangar c'è questo bunker possiamo chiamarlo così ragazzi ed erano quasi le tre di notte, erano le due qualcosa e a un certo punto, cioè come state per vedere hanno incominciato a venire questi pallini verdi che cominciavano a ruotare quindi mi sono insospettito ragazzi perché come vedete adesso c'è una porta dentro a questo bunker quindi ho fatto uno più uno e ho pensato adesso con la porta si apre e dentro c'è il jetpack c'è di tutto, ci sono indizi, ci sono alieni aperti in due, c'è qualsiasi cosa e purtroppo ragazzi vi dico subito che non è successo niente però è successa veramente una cosa molto molto importante un indizio magari fondamentale che a momenti vedrete questi pallini ragazzi hanno incominciato a girare mi pare intorno alle due una e mezza, due di notte quindi molto molto prima ecco qui, erano le tre ragazzi ed è uscito questo sole verde, questo ologramma, questa luce ho provato a guardare nel cielo e non c'era niente ho provato a riguardare ovunque, sui tetti degli altri hangar ragazzi non ho visto niente quindi se sapete qualcosa scrivetelo nei commenti io questo video lo concludo qua ragazzi vi ricordo di lasciare tantissimi mi piace commentate, iscrivetevi al canale di Wanya magari passate anche nel mio canale ragazzi che mi fate veramente felice qui da Bistard è tutto e noi ci vediamo sabato 26 ottobre al Games Week